Il decreto cura Italia e l'entità dell'impegno finanziario appaiono adeguate alla fase attuale di sviluppo dell'epidemia di Covid-19, ma le risorse che il Paese prenderà a prestito andranno utilizzate in maniera oculata per affrontare l'emergenza e avviare la ripresa. Lo spiega la Banca d'Italia in una memoria presentata alla Commissione Bilancio del Senato. Per Palazzo Koch, quando i tempi saranno nuovamente propizi, sarà necessario assicurare le condizioni per riavviare il percorso di riduzione del rapporto tra ribito pubblico e prodotto interno lordo. Grazie a tutti.